Arriva in Valdarno il camper vaccinale dell'Asla Toscana Sudesta. Il mezzo mobile ha infatti fatto tappa a Montevarchi in concomitenza con il mercato settimanale. Presenti come sempre professionisti medici ed infermieri dell'Asla a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e per effettuare la vaccinazione della quarta dose anti-covid per gli over 80 ma anche per coloro che desiderano completare il ciclo vaccinale e che non lo hanno fatto sino ad oggi. Se ne sono avvicinate diverse soprattutto domandando le possibilità di vaccinazione come terza e quarta dose. Noi avevamo anche dei plan affissi sul camper ma naturalmente li abbiamo dovuti togliere per la pioggia e quindi abbiamo spiegato a voce le modalità di vaccinazione per ciascuna persona. Il vaccino somministrato è ad RNA messaggero Pfizer o Moderna. Ovviamente le prime e le seconde vaccinazioni sono molto più rare in quanto chi ha deciso di vaccinarsi l'ha già fatto oppure è in corso di vaccinazione per cui è molto più probabile che si tratti di persone che sono alla terza o alla quarta vaccinazione. Prossima tappa sempre in Val Darno, sabato 11 giugno a San Giovanni. Grazie. Grazie.